Dottor D'Aurea, lei è contento della sua esperienza in ALIS in questi due anni di attività? Ritengo che è stato un progetto molto stimolante, dove oggi si vedono già tutti i risultati di una visibilità importante, ma soprattutto con tematiche molto ad avanguardia per quanto concerne ente e modalità rispetto dell'ambiente, con attività. Oggi siamo coinvolti e tutti siamo responsabili eticamente per quanto riguarda la riduzione di CO2 e quindi mettere in campo tutte quelle opportunità, investimenti e strumenti affinché tutti partecipiamo a questa riduzione di CO2. Quindi con l'intermodalità accompagnata o non accompagnata, marittima, ferroviaria, utilizzo di equipment che siano a basse emissioni, come veicoli RNG, pertanto tutti come operatori, come privati, come associazione, ritengo che abbiamo questo onere di portare un progetto di riduzione di CO2. L'associazione ha avuto la capacità, la percezione di poter intercettare tutte le sfide del futuro, quindi sicuramente il focus è la riduzione rispetto ambientale, che poi ne consegue uno sviluppo sempre più massiccio nella riduzione di un trasporto tuttostrada e pertanto ritengo che sono le tematiche più moderne e più ad avanguardia di cui stiamo affrontando.